Rimessa con le mani e bossè per Pereira. Gioca dietro su Biol, Perez. E troppo, deve girarsi su Juan Jesús que lo chiede, si è in stilo, Bocca riparte Zambanghissà. Corre il Napoli, il taglio di Ossimen, arriva velocissimo Lozzano, palla dall'altro lato, per Elmas entra in area, la sterzata se la portano avanti, è meraviglioso il 3-0 del Napoli. All'assist aggiunge anche il gol Elmas per la rete del Tris che fa impazzire il Maradona. Azione spettacolare. Devastante Elmas nell'area dell'Udinese, fa tutto da solo e va a segnare il gol del Tris. 3-0, quello che probabilmente chiude la pratica Udinese. La comincia Lobotca, poi Zambanghissà. Arriva veloce Lozzano a destra, la scelta è dall'altro lato, Elmas che frena così e poi la piazza sul primo palo, quello in teoria coperto da Silvestri. Se la porta con la suola, se la giusta e batte il portiere dell'Udinese. Ancora una volta in gol da titolare, aveva segnato all'Atalanta e segna anche oggi contro l'Udinese. Aveva già messo a referto l'assist sul gol dell'1-0 di Osimena. Grazie mille! Grazie a tutti. Grazie a tutti.